Buongiorno a tutti, oggi è 28 giugno e torniamo al 28 giugno del 1940, data in cui muore Italo Balbo. Un personaggio controverso, un personaggio che sicuramente nel corso della sua vita è stato oggetto di critiche e di elogi. Il suo piglio, il suo carattere, sicuramente deciso a contrastare alcuni eccessi, alcuni elementi poco onesti intellettualmente. Di Mussolini gli ha permesso di crearsi un mito, un mito che anche per la sua morte prematura lo ha costellato di una alone quasi di santità, passatemi il termine. Sicuramente anche legate alle sue prodezze aviatorie, il fatto di aver dato rilancio e impulso alla regia aeronautica, che sostanzialmente nel periodo in cui egli è stato prima sottosegretario e poi ministro ha avuto un grosso sviluppo. E che tra l'altro appunto poi in tempi recenti gli ha permesso di tornare alla ribalta della toponomastica, perché se nel periodo fascista dal 40 al 44 esisteva una via Italo Balbo che costeggiava il ministero dell'aeronautica, poi ovviamente è stato richiamato, ridenominato a questa prima barra che oggi si possa chiamare via Piero Cobbetti, se non vado errato, o comunque ha un suo allegge del contrappasso nella ridefinizione di quel nome, ma recentemente sono stato a visitare una mostra presso il ministero dell'aeronautica e nel cortile interno del ministero dell'aeronautica, nel giardino antistante al ministero, quindi internamente alla struttura militare, ci si chiama Piazza Italo Balbo. Quindi diciamo che all'interno anche di quelle polemiche che ultimamente sono state oggetto di discussioni, a proposito di Italofoschi, che gli è stato dedicato un francobollo fascista abbastanza irruento, che era stato intimo di alcuni degli assassini di Matteotti, proprio in questi giorni che si è celebrata il centenario di quel tragico evento, il fatto di poter fare un francobollo in suo onore in ricorrenza di un 140esimo anniversario della nascita, non mi ricordo esattamente la ricorrenza, quale fosse, solo perché o anche perché aveva fondato l'AS Roma. Quindi entriamo in un discorso un po' più ampio. di Italo Balbo, che tra l'altro ha una piccola marchetta, io ovviamente ho dedicato una biografia sul mio volume I Gerarchi Fascisti. Oggi voglio parlarne, ne avevo parlato già in altre circostanze, quindi non è un tema nuovo su questo canale, ma colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare un utente che prima di essere un utente è il papà del compagno, di uno dei compagni di mia figlia, di mia figlia Lara, Daniele, questo papà che tra l'altro è anche diventato follower del canale e tra l'altro ha comprato anche il libro I Gerarchi Fascisti, che lo sta leggendo ogni tanto, mi chiede qualche ragguaglio, qualche chiarificazione e mi aveva voluto regalare quest'opera interessante, giornali di guerra, è un'opera che usciva a fascicoli, credo ormai almeno vent'anni fa, forse c'erano ancora le lire, e che raccoglie una serie, mi ha fatto questo dono, io lo ringrazio pubblicamente, grazie Daniele, perché al suo interno c'erano una serie di fascicoli interni dedicati a determinate eventi, battaglie, situazioni della seconda guerra mondiale e c'è appunto anche in ricordo della morte di Italo Balbo, qui ci sono alcune riproduzioni di giornali dell'epoca, ovviamente questi sono del 30 di giugno, la morte di Balbo poi ha avuto una sua ripercussione nei giorni successivi, è morto il 28, e appunto ci sono queste notizie particolarmente a tutta pagina, ovviamente capite bene come un gerarca all'epoca governatore della Libia, anzi governatore civile militare della Libia, nonché comandante delle truppe operanti, una morte che creerà un problema nell'ordine di comando italiano, visto che appunto verrà chiamato in fretta e furia Graziani, con tutto quello che seguirà, ma ne avremo modo di parlarne anche attraverso il diario di Armellini, che stiamo appunto, in queste settimane l'abbiamo usato parecchio, per l'analisi anche di come l'Italia si approccia alla discesa in guerra. Ebbene, i titoli sono molto accattivanti, appunto, scusate, appoggio questo qua, Allora, Italo Balbo caduto in combattimento nel cielo di Tobro, con grande soldato nella eterna luce della gloria, le bandiere si inchinano, italiano del tempo di Mussolini, le virtù dell'eroe sulla via della vittoria. Stessa situazione lo vediamo nel resto del Carlino, Gloria Eterna ai Caduti per la Patria, vedete, i titoli di noi che sono molto diversi, l'eroica morte di Italo Balbo, avviatore combattente nel cielo di Tobruk, il duce ordina che oggi e domani siano esposte le bandiere a mezz'asta e le insegne abbrunate del partito, vita di passione fascista, di ardimenti guerrieri, al posto di combattimento, in vita e in morte. Ma prima di leggervi alcuni passi di questi interessanti articoli, è particolarmente curioso vedere anche come nelle pagine interne vi sia spazio per quello che è la... abbiamo parlato dell'armistizio di Villa Giusti, quindi diciamo che abbiamo... scusate Villa Giusti per l'apsus di Villa Incisa e sempre Badoglio c'era. Badoglio c'era tutti gli armistizi infamanti, diciamo così, e dicevamo... no, Villa Giusti non era infamante. e quindi abbiamo la situazione nelle Alpi occidentali. E' interessante, e qui come dice, rassegna del duce... scusate, ecco qua, ve lo faccio vedere... rassegna del duce alle ferre truppe vittoriose sulla fronte... scusate, alpina, io leggo al contrario. E quindi ci fa anche un resoconto di come Mussolini possa essere particolarmente tronfio nell'andare a trovare le truppe che sono vittoriosi, vittoriosi, vittoriosi per intersporta persona, per intersporta persona, come fu conquistata Val di Serra, la durissima battaglia vinta dalle forze della divisione Trieste. Dopo un'affettuosa visita ai feriti ricoverati in Torino, Mussolini percorre le strade della guerra e giunge nei luoghi espugnati incontro col Prince di Piemonte e il Duca di Pistoia entusiastiche acclamazioni. Vabbè, questa ovviamente è tutta propaganda all'interno di questa analisi. Ma andiamo a leggere un po' cosa ci viene detto dal Corriere della Sera. Vediamo un po' il Corriere della Sera, come si esprime. E nello specifico io ho selezionato un paio di articoli che secondo me sono molto interessanti. Il primo si intitola Sulla via della vittoria, ovviamente hanno una loro evidente lettura propagandistica di regime e dice Italo Balbo è caduto in combattimento nel cielo d'Africa sulle vie della vittoria. Le bandiere di tutta l'Italia per ordine del Duce si abbassano mentre un'intensa virile commozione pervade l'anima della nazione intera. Diciamo sul discorso che Bussolini sicuramente non è che è stato così se è battuto il petto per la morte di Balbo. Balbo era un avversario politico in quel momento specifico. Non sono dell'idea come alcuni ritengono che possa essere stata voluta questa morte. Sicuramente ha fatto comodo. E tra l'altro vi metterò in descrizione anche un video che io ho dedicato su alcune indagini fatte dal colonnello Levi che era un ufficiale dei carabinieri poi perché essendo ebreo amico di Balbo entrambi sono legati a Ferrara entrambi ex alpini e dopo le giraziali era stato protetto proprio a Tripoli dallo stesso Balbo. Diciamo che era un personaggio molto vicino alla famiglia Balbo. Detto questo mille volte in guerra nelle aspre lotte della rivoluzione delle audaci conquiste della moderna civiltà egli aveva affrontato la morte e l'aveva sempre vinto sembrava invulnerabile e tanti e così gravi erano i pericoli ai quali era sfuggito nel corso della sua ammirabile esistenza. È caduto in combattimento in quella sua Africa che egli dominava dal cielo quale aviatore di incomparabile esperienza e dove quale uomo di governo illuminato e vigile egli si preoccupava di affermare consolidare ed estendere sempre più la potenza dell'Italia. È stata la sua una vita d'eroe egli si è battuto senza soste senza incertezze senza attitubanze soldato fedele di Mussolini è stato vicino a lui in tutte le ore in quelle della vigilia del combattimento della vittoria nella guerra che il popo italiano oggi combatte per la sua indipendenza per la sua libertà per la sua potenza imperiale il duce gli aveva affidato uno degli scacchieri di maggiore responsabilità l'Africa settentrionale e Italo Balbo aveva affrontato il suo compito con quell'impedo che caratterizzava ogni suo gesto e che caratterizza lo spirito stesso del fascismo egli non conosceva soste riposi stanchezze era comandante soldato governatore ed esecutore animato sempre da un entusiasmo trascinatore da un disprezzo assoluto di ogni rischio l'orocausto della sua vita la fine gloriosa in combattimento tutto ciò che egli ha fatto di grande di glorioso di eroico nella sua breve esistenza di 44 anni quella che ho ancora io per pochi giorni affidano il nome di Italo Balbo all'eternità lo collocano fra gli spiriti immortali della patria schietto generoso pieno di slancio e di cuore egli affascinava tutti con quel suo viso luminoso e sorridente con quella fiducia illimitata nella virtù millenaria della nostra solidissima razza volontaria a 19 anni fu valoroso alpino nella grande guerra e l'azzurro delle medaglie al valore freggiavano degnamente il suo petto largo e quadrato di soldato capo del fascismo ferrarese che trovò in lui l'animatore travolgente balzò subito in prima linea dai ranghi della rivoluzione assolvendo i compiti politici e militari più svariati e importanti sempre con lo stesso spirito con lo stesso entusiasmo e la stessa fede era uomo d'azione di lotta e di guerra ma aveva un senso dell'umano profondissimo e nella valle padana come in Libia i problemi del lavoro agricolo e della colonizzazione furono tra lui da lui affrontati e risolti con alto sentimento di responsabilità politica e soprattutto con cuore di uomo conscio delle necessità morali e materiali della vita tre volte trasvolatore dell'Atlantico guidò le ali fasciste nell'America del sud e del nord e portò a quelle nostre collettività assieme alla gioia del trionfo italiano la vivida immagine della nuova Italia nella sua potenza e nella sua grandezza ora egli non è più il suo corpo è raccolto sul campo di battaglia nella sua Africa le camicie nere e il popolo italiano impegnati nella guerra sanno che il dolore va contenuto ma con le bandiere abbrunate si leva nel cielo d'Italia e nei territori d'oltremare un palpito di commozione di fierezza e di orgoglio Italo Balbo compendiava in sé tutte le virtù tipiche del fascismo egli che al fascismo e alla rivoluzione delle camicie nere aveva dedicato la sua vita gli slanci del suo cuore le sue mirabili capacità di uomo politico e di soldatore quanta retorica soldato fedele di Mussolini e della rivoluzione sempre dritto e lineare come una spada senza incertezze con una fede cieca assoluta e quasi accanita nella patria fascista vabbè è caduto in combattimento ma il suo spirito resta più vivo che mai sciolto dal peso della materia esso continua ad ardere fiamma allucinante di fede e a indicare a tutti noi la via del dovere dell'ardimento e della vittoria noi lo sentiamo e lo sentiremo sempre fra noi vicino a noi con la sua irresistibile forza creatrice di nobilissime audaci l'Italia fascista l'Italia di Vittorio Veneto e della rivoluzione l'Italia di Mussolini in piedi saluta col rito fascista all'erroia caduto il cui spirito aleggia nei cieli della patria e ne affida il nome glorioso alle generazioni nei secoli camerata maresciallo itero ballo presente va bene allora detto questa fatta questa prima in questo primo inquadramento di come la propaganda si vada anche a irrobustire di questo evento è quasi un po' questa morte come si può dire ribadisce precisa la la velletaria volontà del regime di affermarsi militarmente visto che sui campi di battaglia in quelle poche giornate dal 10 giugno in poi non è che si sia brillato molto e qui diciamo che questa morte avrebbe dovuto in qualche modo anche cercare di galvanizzare gli animi e renderli ancora più stretti di fronte ai pericoli che la guerra ovviamente incombeva detto questo io vi leggerei anche un altro articolo sul corrispondente da Berlino quindi come a Berlino viene percepita viene commentata la morte di Italo Balbo le virtù dell'eroe esaltate con cameradesco animo in Germania egli ha personificato agli occhi del mondo il valore del combattente fascista l'articolo è di Renzo Segala Berlino 29 giugno la notizia dell'eroica morte del maresciallo Italo Balbo nel cielo di Tobruk diffusisi a Berlino nelle prime ore del pomeriggio ha suscitato il più schietto e cameradesco compianto in tutta la Germania dove la figura del quadrunviro era popolarissima chi non conosceva anche qui Italo Balbo la caratteristica fisionomia di Italo Balbo l'acuto ingegno e le audaci imprese aviatorie di Italo Balbo nel suo nome si compendiavano gli anni eroici della vigilia fascista le gesta dei nostri aviatori gli sviluppi della colonizzazione libica le prime grandi operazioni aeree nella presente guerra per i cittadini del Reich egli però era sopra ogni altra cosa il maresciolo dell'aria l'uomo che seguendo le direttive del duce aveva sviluppato e potenziato l'aeronautica fascista battendo strade di pioniere e realizzando gesta che commisurate ai tempi in cui vennero compiute già appaiono oggi a volte in una lore di leggenda pensate un po' gli aviatori germanici poi molti dei quali avevano avuto occasione di conoscerlo personalmente nutrivano per Balbo una sconfinata ammirazione avendo valutato appieno la dinamica forza della sua interessante personalità il suo coraggio la sua maestria e il suo giovanile entusiasmo di pilota e di capo di piloti notissimi erano pure i vincoli di amicizia che legavano da lungo tempo Balbo al maresciò dell'area del terzo Reich vincoli che il soggiorno nel quadrumbiro a Berlino nel 1938 e il viaggio di Göring a Tripoli nel 1939 avevano contribuito a rendere sempre più fraterni fra i due uomini esistevano singolari analogie di temperamento di idee e anche di destino poiché entrambi oltre a essere dei grandi aviatori avevano avuto l'avventura di collaborare con i loro rispettivi capi fin dall'inizio delle due rivoluzioni servendo poi la causa con inesauribile fede vabbè il cordoglio germanico è chiaramente espresso da tutta la stampa che oltre a pubblicare grandi fotografie dello scomparso e larghi cenni biografici consacra la memoria dell'eroe parole che sgorgano ex abbondanze accordi l'esercito e il popolo italiani scrive la berliner Börsen Zeitung possono essere certi della profonda partecipazione germanica al loro dolore Idaro Balbo il fedele collaboratore del Duce il camerato del nostro maresciato dell'aria ha sempre personificato ai nostri occhi le virtù del combattente fascista dell'audace pilota e del valoroso soldato la sua morte è degna della sua vita finisce al vigore a sua volta l'edizione notturna della berliner Zeitung così fra l'altro si esprime con profonda commozione il popolo germanico apprende la notizia dell'eroica fine di Idaro Balbo e gli godeva fra noi la più cameradesca ammirazione il suo profilo a tutti noto portava in presse le stimmati della forte Italia di Mussolini finisce a virgolettato particolarmente incisivo è il profilo che del quadrunvilo traccia la Naushauser Gabe virgolette come Ermanno Gay Ermanno Gering pensate un po' scrive il giornale già passata la storia sotto l'aspetto del più fedele paradino del Führer e del creatore dell'impareggiabile arma aerea germanica così il nome di Balbo vivrà in eterno come quello del fedele amico e compagno di lotta di Mussolini dell'animatore ordinatore dell'aviazione fascista del colonizzatore della Libia tanto per inciso il vero fondatore dell'aeronautica in realtà non è stato Italo Balbo ma è stato Aldo Finzi di cui qui ho pure una biografia ecco qua così giusto per gradire Aldo Finzi attenzione che crolla tutto Aldo Finzi c'è qualcuno di voi che lo temeva che potesse cadere tutto ancora no Aldo Finzi che era di origine ebraica e tra l'altro morirà alle fosse ardetine giusto per gradire il fondatore dell'aeronautica viene elogiato ma in realtà no è Aldo Finzi che fa una brutta fine per tutta la vita in ogni posto a lui occupato Balbo sempre e soprattutto fu soldato e un gregario del duce quando l'Italia entrò in guerra al fianco del Reich e diciamo che Balbo non è che fosse così tanto entusiasma di questa guerra il maresciallo fin dai primi giorni partecipò attivamente alle operazioni aeree fu lui che l'ultima sera del suo soggiorno berlinese a Carinal disse profeticamente virgolette unite Italia Germania saranno imbattibili e vinceranno che l'abbia detto non lo so che ci potesse credere non lo so neanche ne so meno finisce il virgolettato per realizzare questa idea egli ha ora sacrificato quella che per un uomo è la cosa più preziosa la vita anche la bandiera nazista si inchina sulla bara di questo eroico combattente italiano il cui nome avrà un posto d'onore nella storia dell'amicizia delle due nazioni e negli annali della guerra che esse insieme combattono finisce il virgolettato la scomparsa di Dero Balbo costituisce senza dubbio il principale tema della cronaca quotidiana cui oggi gli avvenimenti militari danno del resto scarsi elementi l'unico fatto nuovo è rappresentato dalla decisione inglese di sgomberare le isole del canale che viene qui interpretata come un sintomo del desiderio inglese di ritardare il più possibile una diretta presa di contatto con le forze militari germaniche questa decisione è infatti in netto contrasto col proposito manifestato nei giorni scorsi dalla stampa londinese di adoperare le isole come un trampone di lancio per un'azione contro le coste francesi come sappiamo del recente ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia e non della Lombardia ha tutto a tempo debito sia le passate intenzioni sia il provvedimento di sgombero hanno lasciato perfettamente indifferente il comando germanico data la scarsa importanza strategica attribuita al minuscolo arcipelago infatti qui su queste isole c'era anche qui esatto un articolo interno qua vedete violento bombardamento ah no ma queste sono altre gerzi su altre isole comunque vabbè comunque diciamo che l'elemento delle isole è sicuramente interessante avete pure qua recentissime sui luoghi della battaglia vinte il duce fra le truppe al Moncenisio incontro col principe di Piemonte a Ulzio una visita ai feriti in Torino l'ardente saluto delle popolazioni i mancati aiuti inglesi alla Francia la linea raggiunta dalle truppe sovieti in Bessarabbia e nella Bukovic ci sono anche elementi pure la mappa va bene allora io ringrazio ancora Daniele per questo graditissimo omaggio che potrà esserci utile anche nella prosecuzione delle nostre delle nostre conversazioni come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale come al solito e alla prossima ciao ciao